Musica 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 Cia a Tutti Bentornati in questo nuovo video Io sono Ferdinando ed sono un gran fan di Sailor Moon Non so se da questa inquadratura non riuscite a sentire la voce non so se riuscite a vedere oggi non parliamo di Sailor Moon come sapete diciamo che è un piccolo vlog solo per eh perchè è successo l'ormonso da facciale nei commenti spam mi sono ritrovato questo succede anche con utenti di youtube non italiani alcune persone hanno dei canali come in questo caso Lorenzo sia una ragazza mi ha lasciato e mi ha dato anche il permesso questo vuol dire che il consenso della sua cover della canzone dei The Cambridge Zombie quindi nel prossimo video quello che doveva uscire sabato praticamente conosciamo la musica indie non ci sarà la musica indie ma ci sarà un vlog dove mi racconterò quello che mi è capitato tutta questa settimana a differenza ho fatto una nuova esperienza eccetera eccetera quindi se voi avete anche persone italiane perché mi sono iscritta anche una ragazza nulla mi pensa che si chiama è un'altra che cantano delle canzoni cioè fanno le cover ovviamente e voi se volete cioè se voi volete nei miei video anche delle vostre cover ovviamente ovviamente mi date il consenso nell'info box poi invece di dove è il reparto musica diciamo così metterò scritto il nome del canale il nome della canzone in questo caso The Cambridge Zombie e il link di questa ragazza a volte mi è praticamente mi è capitato di trovarmi in questa situazione però io non ho fatto sempre finta di niente avevo 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 fatto avevo fatto la richiesta a un canale youtuber di un miei script di un ragazzo svedese che faceva la musica lo schizzi prima ovviamente un messaggio privato sul canale ma non ho mai risposto però c'è scritto che si può utilizzare però si deve comprare ovviamente a far gavete eccetera eccetera l'ho lasciato verde quindi ripeto di nuovo se piccoli canali youtuber di cantanti esordienti avete bisogno di sponsorizzare tra virgolette le vostre cover delle canzoni dei miei video lo potete fare basta che me lo scrivete nell'info box troverete tutti i miei contatti da facebook a telegram snapchat eccetera eccetera i canali del ragazzo del sailor team ai nostri messaggi del sailor team ancora c'è nei miei video del sailor team una persona ha risposto nel fatto della partecipazione ora non so e vi ricordo che anche chiaraccio un valio dei giorni fa ha fatto questo video 207 208 visualizzazione 14 like e ovviamente 2 non like però questo lasciate perdere i like però nessuno ha scritto sotto partecipo nei miei dichiaraggio mi sembra uno anche con framore battecciane ma penso che un framore battecciane ha altre persone non ve lo posso dire però ci sono altre persone e io invece ho la ragazza Astro Girls non so se si chiama così scusami io so solo che tu sei una ragazza italiana che abita a Londra bene io vi saluto e ci vediamo domani sabato 17 giugno con il vlog di quello che mi è successo in questa settimana ciao buongiorno 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 buongiorno